Buon viaggio, bentornati ancora con Muoversi in Toscana, in studio Mauro Ciutini. Partiamo con l'A1, vengono segnalate code tra l'allacciamento con l'A11, la Firenze-Pisa Nord e Firenze-Scandici in direzione di Roma. Sempre in A1 c'è un controllo di velocità tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma. Ci spostiamo adesso sulla A11 la Firenze-Pisa, personale su strada tra Monte Catini e Chiesina-Ozanese in direzione di Pisa. Segnalate code a tratti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra-Fiorentina e l'allacciamento con la A1 in direzione Firenze. Infine sulla A12 la Genova-Rosignano, ci sono anche qui lavori tra lo svincolo Livorno e Colle Salvetti in direzione di Rosignano. È tutto per il momento, muoversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Viaggio!